Buongiorno e bentornati. Oggi parleremo di un argomento che ogni tanto abbiamo trattato su questo canale, cioè l'aspetto economico-finanziario legato al mondo del calcio. E lo faremo avvalendoci di un articolo apparso sull'Independent il 12 febbraio di quest'anno, a firma di Miguel Dileney, che ci racconta come il calcio moderno si è broken, si è rotto sostanzialmente e secondo lui non ha possibilità di riparazione. Legandoci a questo discorso, oggi sulla Gazzetta dello Sport è apparsa un'intervista rilasciata dal presidente della FIFA Gianni Infantino, il quale ci racconta come naturalmente si è in apprensione per la situazione mondiale, così come siamo tutti noi in apprensione per la faccenda legata al coronavirus, e di come questa situazione dovrebbe essere sfruttata, a suo dire, per rivalutare e rivedere il mondo del calcio, da un punto di vista di numero delle partite, da un punto di vista anche economico, e quindi interessante, se avete occasione, leggetela sulla Gazzetta dello Sport di oggi. Andremo quindi insieme a leggere questo articolo, poi vi metterò in descrizione il link, se volete leggerlo in forma integrale, è gratuito e naturalmente io ho estratto alcune parti che comporranno il discorso di oggi, del quale poi parleremo, mi auguro, insieme. Per introdurre questo discorso è necessario fare riferimento alle parole che sono emerse da un incontro tra le principali squadre del campionato inglese di recente, cosa dell'anno scorso, le quali si sono viste recapitare una domanda relativa alla competitività del campionato della Premier League e del calcio in generale, e la risposta è stata che una certa quantità di impervedibilità è buona, ma una Lega più democratica sarebbe dannosa per gli affari, e già questo come introduzione direi che non è male. L'articolo prosegue poi parlando di come l'abbraccio, così lo descrive il giornalista, l'abbraccio del calcio all'ipercapitalismo non regolamentato ha creato una crescente disparità finanziaria che sta distruggendo sostanzialmente l'imprevedibilità dello sport. E questo, se posso permettermi, a margine non solo nel calcio, ma anche in tanti altri settori che hanno dimostrato la fallaccia di questo sistema, ma sappiamo che chi ha il dogma del mercato accetta anche poi i fallimenti, altrimenti non avrebbe il dogma nel mercato, perché il mercato per definizione non è infallibile in ogni caso. Questa, dice, è una conseguenza dell'esplosione delle quantità di denaro che sono state immesse nel mondo del calcio. Il divario diventa maggiore in campo e il motivo per il quale stiamo vedendo infrangersi stagione dopo stagione dei record è proprio questo, cioè la grande disparità che c'è tra le prime squadre e poi tutte le altre. Da un punto di vista della competitività, l'analisi che fa il giornalista è piuttosto interessante, perché lui riferisce questo, riferisce il fatto che è vero che le grandi squadre comprano i grandi giocatori, però è altresì vero che l'imprevedibilità dell'errore umano, perché comunque i calciatori sono esseri umani e quindi possono sbagliare, ci lascia quel minimo margine di passione per poter seguire questo sport anche dal lato di chi non tifa per le grandi squadre sostanzialmente. Naturalmente poi il fatto di poter ingaggiare i grandi giocatori riduce il margine di errore, perché sostanzialmente, dice il giornalista, ha ragione, più i giocatori sono forti e meno, e più si riduce, più si assottiglia il margine di errore. Lo stesso presidente della UEFA, Ceferin, ha riportato in un incontro proprio quest'anno quelle che sono le minacce, lui le ha definite così, e i rischi di questa polarizzazione delle entrate. Ovviamente poi, e questo lo aggiungo io, viene un po' da sorridere dal presidente della UEFA, cioè dalla istituzione che ha implementato la Champions League, così come la conosciamo oggi, che poi vedremo, lo dice anche il giornalista, è una delle principali cause di questa disparità. Il presidente della Liga, il campionato spagnolo, Javier Tebas, dice che se non risolviamo questo problema, tra qualche anno il nostro settore crollerà. E lo dice in riferimento, ovviamente, non alle grandi squadre, ma a tutte le altre, perché la precaria salute finanziaria dei club al di fuori di questa elite è il grande problema del calcio mondiale. Ed è il nodo centrale di questo articolo. Dice ancora Tebas, dobbiamo fermare la tendenza in questo momento, il divario cresce esponenzialmente ogni stagione e si può potenzialmente distruggere l'ecosistema mondiale del calcio. Tra l'altro fa specie sentire adesso queste parole, proprio in questo momento, in quale, come detto, introdotto anche dalle parole di Infantino di oggi, si sta proprio rivalutando tutta la situazione strutturale del mondo del calcio. L'articolo è interessante perché fa un percorso storico, che naturalmente non vi leggerò nella sua completezza, relativo a quello che era il calcio negli anni Ottanta e come poi è evoluto per arrivare fino ad oggi. Negli anni Ottanta il calcio, a detta di molti, era gestito a malapena come attività a scopo di lucro. C'era una netta, una minore diversità da un punto di vista di stipendi, dal punto di vista di ingaggi, tra le più forti e le meno forti. Tant'è che si fa riferimento poi a come squadre come il PSV en dove, Nostiava, Bucarest, la Stella Rossa di Belgrado, potevano vincere la Coppa dei Campioni, cosa che adesso è praticamente impensabile. Il tutto, poi, ovviamente l'articolo fa riferimento alla Premier League, ma noi possiamo poi mutuarlo in tutti gli altri campionati, soprattutto perché il calcio percorre un cammino di globalizzazione, così come il mondo in generale, la droga principale del mondo del calcio arriva dai diritti televisivi. I diritti televisivi, pensate, per il periodo 2019-2022 della Premier League sono 8,4 miliardi di sterline. A questo si aggiunge ovviamente il monte premi della Champions League che, secondo il giornalista, è una delle grandi cause, se non la principale causa della differenza che c'è. Più denaro porta maggiore disparità. Nel 1992-93, anno non solo di introduzione della Champions League, ma anche di creazione della Premier League, la differenza di salari tra le prime e le ultime era di 2,8 come grado di separazione. Dal 1992-93 in poi è diventato quasi di 5 volte, ecco un altro motivo per il quale c'è questa grande differenza. Poi, vabbè, lui fa un'analisi relativa ai salari, questo lo saltiamo, arriviamo a questa considerazione che è una considerazione molto interessante. Da un punto di vista statistico dimetrica, dice lui, lo sport, il calcio in Europa è assolutamente più prevedibile di 30, di 20 o addirittura di 10 anni fa. Una maggiore disparità, prosegue, ha aumentato i requisiti per vincere i vari campionati o anche la Champions League. Infatti lo si può vedere notando quelle che sono le strisce vincenti dei vari campionati. Questo lo vediamo in Italia con la Juventus, lo vediamo in Germania con il Bayern Monaco, lo stiamo vedendo un po' anche in Premier League dove, diciamo, c'è stata un po' un'alternanza tra il Chelsea e il Manchester City, adesso il Liverpool però, il Manchester City è sempre stato lì negli ultimi anni. E arriviamo al Montepremier della Champions League. Il Montepremier della Champions League, dice, è diventato uno dei problemi più profondi di questa situazione, influente come qualsiasi altra cosa nel creare questa disparità. Torna poi sul discorso dei campionati, delle varie situazioni, fa un'interessante analisi su quelli che erano i risultati delle partite nei vari campionati e queste ve le cito perché sono molto interessanti. Le quattro squadre più ricche d'Inghilterra, adesso, hanno oltre un quinto delle loro partite vinte con tre o più gol di scarto. Negli anni 90 era poco più di un decimo. Il Reale e Barcellona hanno visto un'evoluzione delle partite vinte con tre o più gol di scarto dal 20% degli anni 90 al quasi 40% di adesso, quindi raddoppiato. Il discorso della Champions League, e qui tirano in ballo anche il Milan perché parlano della richiesta della Superlega fatta addirittura dai tempi di Silvio Berlusconi, ve la ricorderete sicuramente. Alcuni spunti di quella proposta di Berlusconi vennero poi utilizzati per la realizzazione della Champions League e a questo proposito dobbiamo dire che alcune società minori, non di prima fascia, lamentano il fatto che la minaccia della Superlega viene utilizzata da tanti anni dai club principali, ogni qualvolta si debba andare a ridiscutere dal punto di vista della distribuzione dei diritti televisivi. Ci poteva mancare Silvio Berlusconi in questa storia? No, non ci poteva mancare. Poi l'articolo prosegue con altre indicazioni, io vi consiglio di andare a leggere, adesso non direi che vi legga tutto quanto, fa un riferimento poi ovviamente alla legge Bosman che cambiò anche lì dal punto di vista proprio strutturale il mondo del calcio e poi fa delle considerazioni, come vi dicevo, sulla natura della Champions League e della sua importanza strategica da un punto di vista economico. Adesso veniamo un po' alle considerazioni generali che voglio fare io. Le considerazioni finali, dopo la lettura di questo interessantissimo articolo, vertono principalmente sul fatto che il mondo del calcio ha subito una grande influenza da un punto di vista economico da parte di alcune figure, alcuni presidenti e poi alcune proprietà che hanno drogato il sistema e qui ci dobbiamo mettere anche il nostro presidente Berlusconi perché il suo arrivo nel mondo del calcio lo scombussolò non solo da un punto di vista sportivo attraverso scelte veramente futuristiche, visionarie come quella di Arrigo Sacchi, ma anche da un punto di vista economico perché la sua ascesa fu di pari passo con investimenti ingenti. Poi da Berlusconi ci siamo evoluti, il mondo del calcio si è evoluto ed è arrivato agli sceicchi, è arrivato a presidenti come Abramovic e altri presidenti, altre proprietà che mescolano la loro ambizione sportiva a altri affari, a addirittura poi ambizioni politiche. Oltre a Berlusconi, pensiamo, mi viene in mente anche Bernard Tapie del Marsiglia, tanto per dirne uno. Per questo motivo diciamo che tutto questo flusso di capitali nelle grandi squadre ha aumentato il divario sbilanciandolo in maniera attualmente irrecuperabile e ovviamente questo rappresenta un problema. Come dice l'articolo c'è un problema di sostenibilità finanziaria per le squadre piccole, cosa che verrà ulteriormente aggravata da questo momento di crisi perché ovviamente si dovrà fare conto con entrate che non ci sono, si dovrà fare conto con diritti tv che vengono meno e per questo motivo tante squadre stanno già iniziando a chiedere una decurtazione dello stipendio da parte dei giocatori, cosa che ovviamente ha provocato la sommossa delle associazioni di categoria alle quali si sono dette assolutamente contrarie a questo tipo di azione. Quindi questa situazione attuale legata alla pandemia del coronavirus potrà essere da un punto di vista, non voglio dire morale perché è eccessivo, ma potrà essere da un punto di vista economico, finanziario, strutturale e poi di riflesso anche sportivo una leva per cercare di rimediare agli scompensi che sono stati creati negli ultimi anni e quindi riportare, non dico il calcio a una dimensione romantica perché questo non si potrà fare, ma sicuramente a una dimensione meno spropositata e quindi più vicina alla sua natura di sport e un po' più lontana alla sua natura di investimento economico-finanziario. Questo è l'auspicio, io devo dirvi la verità non è che nutro molto ottimismo in questo senso perché questa situazione attuale sicuramente genererà qualche riallineamento, riassestamento di determinate situazioni, ma poi nel medio periodo si tornerà chiaramente a rivedere il tutto nell'ottica del business. Però magari chi lo sa che qualche istituzione che possa essere minimamente illuminata decida se non altro di rivedere tutti gli scompensi che stavano portando al collasso che potrebbero addirittura, spinti da quest'ultima emergenza, portare al collasso tutto il sistema. Questa è la mia considerazione e anche il mio auspicio per far sì che il calcio possa tornare a essere uno sport di sogno dove tipicamente vincono le squadre più forti, ma dove molte volte ci possono essere delle realtà come il Leicester, che è la più recente, che scombussolano i piani delle grandi e ci riportano a quella dimensione che il calcio dovrebbe avere per ritornare anche ad essere un pochino più vicino alla gente e un po' meno semplicemente agli interessi, alle lobby, ai conti in banca e quant'altro. E anche per le televisioni va rivista la redistribuzione e va rivista anche la quantità di denaro che viene versato. Ecco perché parlo di ridimensionamento, perché a partire da lì bisogna rendersi conto di come le società non possano più pensare di continuare a essere sostentate esclusivamente dai diritti televisivi, ma devono pensare a trovare soluzioni alternative e un po' più vicine anche a chi poi questo mercato lo alimenta, e cioè noi tifosi. Scusate se sono andato un po' lungo, ma ci tenevo a fare queste considerazioni. Fatemi sapere che cosa ne pensate. In descrizione, ripeto, vi riporto il link all'articolo così potete leggere. Mettete un like al video, ragazzi, iscrivetevi al canale e ci sentiamo. Alla prossima.